Aranciamare è un po' figlia del lockdown, siamo quattro donne e ci siamo ritrovate tutte più o meno orfane della nostra vita precedente. Abbiamo perso tutti i riferimenti sia da un punto di vista lavorativo ma per quel che mi riguarda non avevo più una proiezione per il futuro. Ci siamo ritrovate tutti insieme, abbiamo lavorato tutta l'estate del 2020 per cercare di costruire una nuova realtà assolutamente autonoma e rilanciarci immediatamente. A ottobre siamo andati dal notaio e da là è nata Aranciamare, una cooperativa sociale e noi diciamo che è un incubatore dei nostri sogni, nel senso che l'idea è di riuscire a concretizzare i sogni di ognuna di noi. E siamo partiti dal primo che era quello probabilmente il più focalizzato perché aveva un passato e una storia alle spalle e un know-how che era il mio sogno e quindi abbiamo fondato un brand che è Cocca d'Oro che è il primo progetto di Aranciamare. La prima cosa che ci siamo detti è stata ok facciamo una produzione di accessori prevalentemente femminili e anche non, borse, collane eccetera utilizzando prevalentemente il tessuto ma come dire sentivamo l'urgenza di riempire di valori questo contenitore. Abbiamo abbracciato la sostenibilità immediatamente il fatto di essere un'impresa solidale. Il nostro approvvigionamento dei tessuti avviene in vari modi. Andiamo a cercare i nostri tesori in dei magazzini, dei depositi dove si vendono i stock, i resti dei resti e cerchiamo di trovare i nostri tesori anche lì, soprattutto lì. E noi là appunto scaviamo, cerchiamo e troviamo poi le cose che trasformiamo. Anche dagli espositori dei tapezieri stessi noi tiriamo fuori dei pezzi preziosi che trasformiamo poi in oggetti unici. È una cosa che dà veramente grandissima soddisfazione perché tu vedi rinascere una cosa che ti sembra veramente un grandissimo peccato che debba già finire nella spazzatura. E soprattutto a noi ci dà la possibilità di lavorare perché noi siamo nati diciamo dal nulla con le proprie forze economiche e questa possibilità di far rinascere delle risorse che sono ancora validissime a noi dà veramente grande soddisfazione. Il nostro ultimo progetto del 2021 si chiama Pensiero Libero. È il progetto di una fascia che si indossa in testa come quella che ho io adesso in molti modi, ma non è tanto il progetto dell'oggetto interessante quanto tutto il processo che ci sta dietro, sia all'inizio che alla conclusione, perché Pensiero Libero è dedicata a Libro Grassi, imprenditore palermitano, è stato ucciso dalla mafia nel 91, è stato uno il primo che si è pubblicamente rifiutato di pagare il pizzo. Perché è dedicata a Libro Grassi? Perché i tessuti con cui le fasce sono realizzate provengono tutte dai magazzini, erano giacenze di magazzini della fabbrica di Libro Grassi che era gestita dalla sua morte dai figli Alice e Davide e che purtroppo nel 2019 ha chiuso definitivamente. Quindi noi abbiamo rilevato parte di questo magazzino e questo è un processo sostenibile perché le giacenze di magazzino è uno dei piccoli passi che uno può fare. E poi a conclusione del cerchio noi doniamo una parte del ricavato delle vendite all'associazione Parco Libero che è un'associazione fondata da Alice e Davide che si sta occupando della riqualificazione di un'area della costa sud di Palermo ad Acqua dei Corsari che è stata strappata alla mafia e dedicata, intitolata a Libro Grassi.